video lezione di scienze l'atomo concetti chiave l'atomo è una particella di materia indivisibile gli elettroni sono minuscole particelle negative i protoni sono particelle positive del nucleo i neutroni sono particelle neutre del nucleo il numero atomico è il numero dei protoni nel nucleo il numero di massa è la somma di protoni e neutroni la molecola è la più piccola parte di una sostanza il legame chimico è la condivisione di elettroni ogni atomo è armonizzato con l'immenso universo e la sua natura dipende dalla natura del tutto giova ad intendere le cose grandi studiare le piccole e viceversa nicolò tomaseo cos'è l'atomo l'atomo è un sistema planetario costituito da un nucleo carico positivamente e da elettroni cariche elettriche negative ruotanti intorno al nucleo del quale neutralizzano le cariche positive caratteristiche dell'atomo gli atomi di un elemento sono tutti uguali tra loro gli atomi di elementi diversi hanno proprietà diverse gli atomi combinati in una reazione chimica conservano la propria identità gli elementi dell'atomo gli elettroni sono particelle molto piccole con carica negativa che ruotano intorno al nucleo i neutroni sono particelle del nucleo prive di carica elettrica i protoni sono particelle del nucleo con carica positiva atomo neutro nella maggior parte degli atomi il numero di elettroni e protoni è uguale gli ioni invece sono atomi che perdendo guadagnando elettroni hanno una carica elettrica positiva o negativa classificazione degli atomi gli atomi si classificano in base al numero atomico z il numero atomico z indica il numero di protoni presenti nel nucleo mentre il numero di massa a il numero di massa indica il numero totale di protoni e di neutroni presenti nel nucleo la tavola periodica è la classificazione degli elementi in ordine crescente di massa atomica in righe dette periodi sovrapposte a formare colonne gruppi con proprietà chimiche simili i legami un legame chimico è la forza di attrazione che unisce due o più atomi coinvolgendo gli elettroni dello stato più esterno acquistando cedendo o mettendo in comune questi elettroni legami possono essere legame ionico ovvero legame che si stabilisce per attrazione di ioni con carica opposta o legame covalente ogni coppia di elettroni messi in comune tra due atomi costituisce un legame covalente cos'è una molecola è la più piccola quantità di una sostanza costituita da due o più atomi in grado di conservarne la composizione chimica le proprietà e il comportamento per approfondimenti è possibile consultare chimica online rae scuola sapere seguite il canale ci vedremo alla prossima lezione grazie